che bella buongiorno ragazzi oggi pomeriggio andremo a pescare ai laghi capanna è da un po che non ci facciamo una bella pescata pomeridiana proviamo a farla oggi andremo a pescare a spinning e vedremo se riusciremo a fare qualche bella cattura a tra poco bene eccoci arrivati al lago bellissimo acqua azzurra e ci mettiamo subito in pesca vediamo se riusciamo a insidiare qualche pesce ci mettiamo subito in pesca con questo spunto colore giallo schiamo con la varivas aria drive è un trecciatino bella bella se riusciano a fare divertire se riusciano a fare se riusciano a fare se riusciano a fare se lo fai? si se non piccola piccola è una è arrivata non te la fai col bianco in mezzo in mezzo in mezzo in mezzo questo proprio è un parco di riuscire il giorno intero alla mattina mi sono trovato in d'oro non so cosa farlo in mezzo in mezzo e ecco l'altro Sì che bella eh pian piano se non mi rompe si spettacolo ah questa è bella è bella bella spettacolo altra combattimento sono una liga spettacolo 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 un'altra bellissima trotta spettacolo 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 spettacolo